ragazzi iscrizione gratis iscrizione gratis e campanellina se vi fa piacere altrimenti va bene lo stesso non siete obbligati il fatto che sia gratis non vi obbliga certo di iscrivervi ma se vi iscrivete a me fa piacere tanto non costa nulla decidete voi è un titolo un po forte ma io credo nel frattempo passa il gatto vai a divertirti ragazzi nel frattempo passa il gatto io credo in quello che dico ragazzi lo so che sto per dire una cosa forte togliete la clausola da 98 milioni a ticus turam giocatore clamoroso quando io ti dico che la tula è meglio della lula ho un motivo per dirti questo te non devi guardare il gol che ha fatto turam ieri te devi guardare l'assist che fa aspetta guadagna un tempo di gioco infila tutta la difesa fa fuori tutta la difesa con quel doppio tocco mette l'autaro davanti alla porta l'autaro un po impreciso ieri sfortunato ma sono sedate e soprattutto agli attaccanti capitano poi da lì a dire che trubin è un fenomeno come tecnica di parata ti dico la verità a livello di tecnica di parata trubin non mi fa impazzire ma 10 milioni ragazzi ma di cosa vogliamo ragionare a 10 milioni era da prendere lo sappiamo tutti la cifra che lo ha pagato il benfica grande rimpianto purtroppo questa proprietà non aveva 10 milioni da investire abbiamo preso bonsai bonsai è il soprannome di sommer come molti di voi sanno abbiamo preso bonsai a 6 milioni in tre rate ma bonsai pur essendo un 35enne tra i pali è un ottimo portiere te l'ha dimostrato anche ieri sera ha delle pecche nelle uscite ma tra i pali bonsai è un ottimo portiere la partita l'altro concludo concludo su turam per molti interisti dicevano ma chi è questo non segna non fa gol concludo su turam su ticus ci tengo molto a sottolinearlo che al signor turam è stato annullato un gol a empoli per 10 centimetri e un gol in spagna contro la real società sempre per 18 centimetri attenzione a livello di assist ha già superato gecko lui ha fatto in un mese e mezzo gli assist che ha fatto gecko in un anno sui gol ci sta lavorando siamo a tre quattro gol non mi ricordo intenzione gecko ne ha fatti 13 vedremo a fine anno tra l'altro chi fa più gol tra miglio verde turam vogliamo fare questa scommessa miglio verde è la cacca lukaku come lo ami che ti avevo detto lascialo ricchi è meglio perché lukaku appena si alza il livello scompare fa gol contro la salenitana con tutto rispetto regina lecce crotone appena ci sono le partite di livello lukaku non tocca palla te lo dico io partita di ieri ho già detto tutto no dopo il video nel video post partita partita double face a doppia faccia nei primi perché ti avevo detto non facciamoli palleggiare perché nei primi 45 minuti loro palleggiando molto cosa succede succede ti fanno correre a vuoto te corri a vuoto e perdi di lucidità perdendo di lucidità se ci hai fatto alas nel primo tempo hai sbagliato molti appoggi alimentari per quello devi stare attento a questi palleggiatori fortunatamente però l'inter nel primo tempo il campo l'ha tenuto abbastanza bene non ho visto tranne l'amnesia di bastoni che lancia di maria solo davanti a porta ecco lì se al posto di di maria magari c'è un leao e va a duemila ti fanno male ma fortunatamente poi dopo cosa succede finisce il primo tempo il primo tempo nel secondo tempo lo stesso barella torna ai suoi livelli finalmente ho visto un barella che torna ai suoi livelli il barella del benfica dell'anno scorso dove fu decisivo sia all'andata che al ritorno bastoni si sveglia bastoni prende un caffè si sveglia cambia totalmente la squadra pippo franco michitalian non ha questo non ha trentacinque anni ragazzi questo ne ha venti ventuno è possibile che abbia trentacinque anni più un po franco mi apisci abbiamo visto anche un lautaro e comunque capito un lautaro secondo me qualche errorino sotto porta ieri l'ha fatto ma avevano uno sculo addosso come si dice dalle mie parti aveva una sfortuna lui nemmeno con le mani avrebbe fatto gol ieri sono quelle partite maledette capito e poi tra l'altro ragazzi c'è qualcuno stamattina mi ha chiamato giuse ma scrignar chi mi hanno fatto ma l'hai visto papà certo l'ho visto papà papà è veramente un giocatore clamoroso ragazzi un giocatore che non sbaglia nulla in fase difensiva e che è devastante anche in fase offensiva giocatore clamoroso benjamin papà giocatore clamoroso quindi ecco che poi alla fine abbiamo passato una bella serata ora sarà importante vincere contro il salisburgo attenzione però diciamo che siamo messi abbastanza bene aspettiamo miglio verde a san siro ci sono i fischietti mi hanno detto che appena toccherà palla lo fischeremo secondo me ragazzi alla fine della fiera che miglio verde essere cercata io io non ho mai dato patente in interismo ragazzi parliamoci chiaro ripeto togliete la clausola da novantotto milioni su turam fidatevi di giuse dieci io però ti dico non ho mai perché dirlo ora è facile non ho mai capito come si faccia ad impiangere un giocatore come lucacco che soprattutto nell'ultimo anno non ha non ce l'hai avuto per sei mesi e tra l'altro ti ha fatto tutti i gollettini quasi inutili tranne quello con il porto giocatore più pagato della serie a mi è piaciuto tantissimo slani forza ristian perché te sei un grande giocatore io in te ci credo ristian a slani è un grande giocatore e tra l'altro ti dirò di più ho visto molto meglio sanchez molto esplosivo lucido mi è piaciuto quella mezz'oretta mi è piaciuto comunque ragazzi davanti io ripeto concludo il video dicendovi ripeto quello che ho detto in un video quattro giorni fa lautaro martinez e turam è una delle coppie di attaccanti più forti d'europa ciao inter